Un successo il ritorno del Gir di Mont con Premana che si conferma capitale internazionale della corsa in montagna. La storica gara di 32 km era infatti inserita come specialità Lang Mountain nelle prove della Coppa Mondiale che ha portato i migliori runner sulle Alpe e gli alpeggi dell'Alta Val Varrone. Importanti i numeri di questa 28esima edizione, ben 5.000 gli spettatori tra turisti e locali posizionatisi sui 12 alpeggi lungo tutto il percorso, quasi 500 volontari, oltre 400 gli atleti da 14 nazioni. Incalcolabile la fatica e il sudore che tutti i partecipanti hanno affrontato, compensata dall'accoglienza e dal sostegno. La gara ha lasciato esprimere i migliori secondo le previsioni in un combattimento leale e ad altissimo livello sia per il settore maschile che per quello femminile. Si è aggiudicata il titolo con una prova eccellente e un'altrettanto ottima forma fisica. La piemontese Elisa Desco con 4 ore e 57 secondi, seguita a 44 secondi di distanza da Lucy Murigi Bambui, vincitrice nel 2017 del campionato del mondo proprio su questi sentieri. La Desco ha superato la Kenyota nell'ultima veloce discesa tecnica all'Alpe e Deleguaggio fino all'arrivo in piazza Premana, terza l'americana Hilary Gerardi. La gara maschile ha visto un brillante Christian Minoggio che ai passaggi intermedi si è posizionato praticamente sempre davanti all'Eritreo Pietro Mamu in un fianco a fianco stimolante battagliero, ma l'atleta Eritreo è poi riuscita a sorpassarlo con passo deciso negli ultimi 200 metri di asfalto prima del traguardo, firmando il conometro. A 3 ore, 11 primi e 29 secondi. Medaglia d'argento per il Piemontese a soli 13 secondi di distacco. Spegni da gara anche per Mattia Gianola che, nonostante condizioni di salute non ottimali, si è regalato il bronzo nella sua Premana. Il paese dell'Alta Valvarrone il giorno prima, sabato, ha ospitato anche la versione appeal del Gir di Monto, vero solo in salita, con la partecipazione di più di 300 atleti da 14 nazioni. La gara, con i suoi 1040 metri di dislivello positivo, ha visto come dominatori indiscussi gli atleti kenyoti della Round Together, che portano a casa il primo posto sul podio sia per la categoria senior femminile che per la senior maschile. Joyce Mutoni-Igneri e Patrick Kipnegeno vincono questa prima edizione, rispettivamente con 54 primi e 47 secondi e 46 primi e 12 secondi.